Luca, vuoi accogliere Ilaria come tua sposa nel Signore, promettendo di esserle fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarla e onorarla tutti i giorni della tua vita? Sì. Ilaria, vuoi accogliere Luca come tuo sposo nel Signore, promettendo di esserle fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarlo e onorarlo tutti i giorni della tua vita? Sì. Luca, davvero tu vuoi prendere in sposo a questa ragazza? Davvero? Luca, vuoi prendere in sposo a questa ragazza? Davvero? Luca, questo è maco, è maco.